Dal vernacoliere a ovo sodo, passando per lo scherzo delle teste di Modigliani e i doppiaggi in Livornese Stretto di Ruffini, il senso dell'umorismo è ormai uno dei simboli della livornesità in Toscana e in tutto il mondo. Non a caso è nato qui tre anni fa il primo festival italiano dedicato alla comicità, il senso del ridicolo. Il festival, diretto da Stefano Bartezaghi e promosso da Fondazione Livorno Arte e Cultura, con la collaborazione del comune di Livorno e il patrocinio della regione toscana, porterà dal 22 al 24 settembre nella città toscana attori, giornalisti, comici, scrittori, psicologi per riflettere su cos'è che ci fa ancora ridere. Nella serata inaugurale avremo il grande Silvio Orlando e faremo la solito, la nostra tradizione, quella di appunto una conversazione con un protagonista delle scene e invece nella seconda serata abbiamo un progetto molto ambizioso a cui teniamo moltissimo, abbiamo convinto il grande Fabrizio Gifuni a farci una lettura di un autore che è considerato difficile ma che in realtà è esilarante e con la voce di Gifuni diventa immediatamente disponibile per tutti, che è il grande Carlo Emilio Garda. Avremo un Alexio Magistralis tenuta da Massimo Recalcati, il grande psicoanalista, che insomma la psicoanalisi è stata forse la prima disciplina a occuparsi del riso, del comico, dell'umorismo e lui ce ne dirà qualcosa e poi insomma abbiamo moltissime altre occasioni. Una cosa molto emozionante per me è che Agatha Boetti, figlia del grande artista Alighiero Boetti, ha appena pubblicato un libro sui giochi che faceva con suo padre, nell'atelier di suo padre, su come questi giochi entravano anche poi nell'opera maggiore di Alighiero e noi potremmo esporre sia lavori del padre sia i giochi che il padre faceva con la figlia e che la figlia faceva al padre ispirandolo. Una cosa è certa la risata quando arriva ci aiuta a esorcizzare i problemi e le difficoltà di ogni giorno. È una medicina naturale contro lo stress e il logorio della vita moderna, come diceva una nota pubblicità. L'umorismo e la comicità diffondono i loro principi attivi nell'arte, nella narrativa, nella poesia, nel cinema, nel fumetto, nel giornalismo e persino nella politica. Noi avremo un giovane bravissimo giornalista che si chiama Francesco Costa, il vice direttore del Post, che è una delle più grandi testate online che abbiamo, che ha seguito con accanimento e con anche dei moduli che ci spiegherà giornalistici molto innovativi, tutta la campagna elettorale americana a partire da quelle per le primarie e verrà a raccontarci l'uso che Donald Trump, attuale Presidente degli Stati Uniti, dà alla Casa Bianca, fa dei moduli della commedia e del comico. Infine, domenica, spazio speciale dedicato ai Livornesi. Matteo Caccia, ideatore e protagonista del programma radiofonico di storytelling Pascal su Radio 2, arriverà straordinariamente nella città toscana per raccontare le loro storie delle vacanze.